Benedicte, ti presento mia madre, Ida. Molto piacere. Ah, piacere mio. È l'azienda di Patrick, lei è sua figlia Alexandra. Piacere. Che genio. Si è portata una valigia spropositata, ma senza un paio di scarpe decenti. La mia l'hanno persa, non so come cambiarmi. Detesto quando succede, e succede spesso. È un problema, se penso a quello che ci è costato il volo. Tu hai dei capelli meravigliosi, in compenso. È una parrucca. E sei anche spiritosa. Sì. Hai viaggiato con Philip, giusto? Sì. Non è fantastico? Non lo trovi interessante da morire. Peccato che sia così brutto. Dai, scherzavo. Già, scherzavi. E allora eccoci qui. In questa reggia. È meravigliosa. Philip, perché non vieni qui con noi, caro? Benedicte, ti prego. La tua voce sveglierebbe i morti. Adoro. Adoro il tuo senso piuma. Salute, mamma. Salute. E startene lì tutto solo.